Salve, la lezione che ci aggiungiamo a fare è quella che è relativa all'analisi di bilancio per indici, bene? Allora, se guardiamo qua, vedete l'analisi di bilancio per indici prevede un passaggio preliminare, cioè dobbiamo fare prima una cosa, cioè la riclassificazione sia dello stato patrimoniale che del conto economico, cosa che noi abbiamo già fatto nelle lezioni precedenti, bene? Quindi abbiamo di classificare lo stato patrimoniale e il conto economico a uno scopo ben preciso per poter poi passare appunto all'analisi di bilancio. Allora, che cosa fa in sostanza questa analisi di bilancio? Sostanzialmente valuta quello che è lo stato di salute di un'azienda. Come sta sta azienda, ok? Allora, come viene fatto in genere? Ci sono due tecniche, una si chiama analisi per flussi e l'altra si chiama analisi per indici. Noi ci occuperemo soprattutto dell'analisi per indici, va bene? L'analisi per indici in sostanza si occuperà della redditività, che poi spiegheremo cos'è, della solidità patrimoniale, della struttura finanziaria e della produttività di ogni singola azienda che andiamo ad analizzare. Allora, nello specifico cosa vuol dire analizzare i bilanci? Allora, sostanzialmente un bilancio rappresenta numericamente in cifre quella che è stata la gestione di un'azienda. Bene? Allora, il nostro bilancio in sostanza è il risultato della gestione svolta, cioè sono dei numeri che si sono verificati, si chiama analisi consultiva, cioè ci sono già stati questi numeri. Ma questi numeri, che sono rappresentati in questo bilancio, noi possiamo utilizzare anche come punto di partenza per la gestione futura, cioè partiamo da questo per vedere che cosa succederà in prospettiva, cioè negli anni successivi. Va bene? Allora, sostanzialmente abbiamo detto, il bilancio è un modello che intanto non è un dato oggettivo, i dati che sono inseriti in questo bilancio non sempre sono dei dati oggettivi, sono influenzati da scelte e quindi diciamo che non, in alcuni casi, comunque rappresentano lo stato di salute dell'azienda, anche tenendo conto del fatto che alcuni di questi dati sono però influenzati da scelte, da chi, nella scelta che ha fatto, che ha stilato questo bilancio. Va bene? Bene, allora, intanto cosa serve questo bilancio? Intanto serve perché noi dobbiamo riuscire a capire che cosa significano i numeri che ci sono scritti. Far parlare i numeri significa esattamente questo, cioè riuscire a comprendere quello che è il contenuto di questo bilancio. Bene? Allora, intanto il bilancio ha una funzione di informazione, prima di tutto per quelli che si chiamano stakeholders, cioè che sono i portatori di interessi, quelli che sono interessati al bilancio. Va bene? Quindi guardano questi dati e riescono in qualche modo a comprendere se la gestione è stata fatta bene, se è stata fatta male. L'analisi invece è un passo successivo, è un'interpretazione dei dati che sono contenuti in quel bilancio e in genere viene fatta da persone che sono esterne alle aziende, ma molto spesso anche da persone interni, per esprimere un giudizio sulla gestione che è stata svolta e per vedere che cosa può succedere negli anni successivi, quali sono le probabili evoluzioni della nostra azienda. Va bene? Allora, partiamo da un dato. Noi abbiamo detto che ci occuperemo di analisi di bilanci per indici. Cos'è un indice? Sostanzialmente è un rapporto, un quoziente, si chiama razio, tra due valori o due grandezze, che sono tratti o dallo stato patrimoniale o dal conto economico, che precedentemente noi abbiamo riclassificato. Va bene? In sostanza è una divisione, no? Faccio un numero, diviso un altro. E trovo quello che si chiama appunto razio, indice. Gli indice in realtà sono tantissimi. Possono essere un'invinità. Noi la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire quali sono quelli interessanti, quelli che ci servono per fare la nostra analisi rispetto a quello che vogliamo trovare. Va bene? La funzione degli indici, in sostanza, è quella di rendere i dati, i numeri che sono scritti sul nostro bilancio, comprensibili a tutti, in maniera non precisamente tecnica, no? Dare dei risultati che dire, vabbè, io per capire se ho guadagnato bene o guadagnato male, sul bilancio in realtà non riesco a capirlo. Ma se attuo un'analisi per indici, riesco a dare un giudizio sulle singole voci. E intellegibile significa appunto che riesco a comprendere quello che c'è scritto sopra. Allora, intanto, prima cosa che dobbiamo capire è che gli indici hanno dei significati che però sono relativi. Relativi, in sostanza, sia al tempo che allo spazio. Al tempo significa che per poterli giudicare, per poterli comprendere, io li devo confrontare con i dati che avevo precedentemente, calcolati sulla stessa azienda, sui bilanci degli anni precedenti, per vedere qual è stato l'andamento, se sono migliorati, se sono peggiorati. Oppure anche nello spazio, che significa che devo valutarli, confrontarli con i dati di bilancio, degli indici, relativamente a aziende che operano nello stesso settore di attività. Cioè, ripeto, prima li devo confrontare con i dati che avevo negli anni precedenti, poi li devo confrontare con i dati di aziende che svolgono la nostra stessa attività, sapendo che, comunque, gli indici non sono una cura, ma sono, appunto, un valore segnaletico. Cioè, mi va a segnalare che c'è qualcosa che va bene, oppure che non va bene. È come quando uno si misura la febbre, no? Non è che il termometro è una cura, ma mi dice che c'è qualcosa che va male, che questa cosa che va male provoca questa febbre, e che il sintomo è segno che c'è qualcosa che non funziona bene. Allora, per quanto riguarda il fine, qual è il motivo per cui si fa l'analisi? È chiaro che dipende da quelli che sono gli scopi per cui viene fatta questa analisi. Allora, per quanto riguarda l'azienda, l'azienda ha uno scopo semplice, semplice, è quello di soddisfare la rinumerazione del capitale investito, cioè significa, sostanzialmente, che l'impresa, l'imprenditore, investe dei soldi e ha necessità che questi soldi, fruttino, diono un risultato inutile, va bene? E quindi, quando va a fare la sua analisi, tiene conto di questo fine. L'indice, l'azienda è interessata a vedere se le cose vanno bene dal punto di vista della redditività, ed è appunto quello che va ad indagare soprattutto. Ma per fare questo, ovviamente, non c'è nessun organismo che può funzionare soltanto tenendo conto di un elemento, ma bisogna tenere conto di tanti altri elementi, come quando uno va dal medico, il medico ti visita, ma non è che ti visita, dice, c'è un mal di testa e ti visita solo la testa, no, ti dice, bisogna fare queste analisi, queste cose, perché l'organismo è complesso e ci sono tante cose che possono influenzare l'una cosa o l'altra. Quindi le cose che bisogna prendere in considerazione per fare l'analisi periodici sono la redditività, cioè la capacità di produrre reddito, la struttura del patrimonio, cioè come è strutturato il patrimonio, la situazione finanziaria che riguarda entrate e uscite e disponibilità monetarie, e la produttività, la capacità, cioè che noi abbiamo di produrre. Ok? Adesso, per quanto riguarda gli indici, adesso li andremo a calcolare uno per uno, intanto per calcolare questi indici si usa una simbologia che dovremmo imparare, per adesso c'è solo questo specchietto, poi li vedremo uno per uno, quelli che ci servono, li impareremo una alla volta, senza bisogno di imparare questo specchietto a memoria. Cominciamo a vedere l'analisi della redditività, è il primo indice che è importantissimo, molto importante, che si chiama ROE. Vedete? Allora, su ROE misura quella che è la redditività del capitale proprio. Allora, ROE sono le iniziali di una frase, che vuol dire RETURN ON EQUITY, lo chiameremo ROE noi. Allora, che cosa significa redditività del capitale proprio? Il capitale proprio, ricordate che cos'è? è quella parte del patrimonio che appartiene all'azienda ed è nato sostanzialmente dalla somma del capitale sociale più le riserve ad esclusione dell'utile. L'utile, perché lo escludiamo? Perché l'utile va distribuito, no? Una parte è la riserve, che quindi c'è già, e l'altra parte è la distribuito ai soci, quindi non appartiene più all'azienda. Il ROE è un indice molto semplice che si ottiene semplicemente dividendo l'utile d'esercizio, il reddito netto per il capitale proprio e poi moltiplicato 100. Ebbene, in percentuale. Allora, cosa però otteniamo? Otteniamo un numerino, che può essere 5, 6, 7, 10%, ovviamente più è alto, e meglio vuol dire che funziona la nostra redditività. Allora, in sostanza, questo indice va confrontato con gli indici degli anni precedenti, ma va confrontato soprattutto con una cosa importante che si chiama gli oneri figurativi. Cosa sono questi oneri figurativi? Allora, sono in sostanza le cose a cui rinuncia l'imprenditore. L'imprenditore per fare la sua attività ci mette dei soldi, ci mette del lavoro. Allora, se quello a cui rinuncia è superiore a quello che guadagna misurato dal ROE, allora per lui non è conveniente l'attività aziendale, quindi occorre che questo ROE sia superiore a questioni di figurativi. Adesso vi faccio vedere cosa sono questioni di figurativi. Allora, molto semplicemente, si chiamano non figurativi, sono dei costi che non comportano delle uscite finanziarie, non comportano uscite finanziarie, che rappresentano sostanzialmente una sorta di compenso che spetterebbe all'imprenditore. Spetterebbe, però non lo prende. Allora, prima cosa, quello si chiama stipendio direzionale. Cos'è lo stipendio direzionale? Sono i soldi che l'imprenditore guadagnerebbe se invece di lavorare nella sua azienda lavorasse in un'altra azienda. Lui non li prende questi soldi lavorando nella sua azienda. Poi, gli interessi di computo. Sono i soldi a cui rinuncia, gli interessi a cui rinuncia, perché i suoi capitali, invece di investirli da un'altra parte e prendere gli interessi, li ha messi nell'azienda. Quindi, gli spetterebbe questo compenso, ma non lo prende. Poi, c'è il rischio di impresa. Cos'è il rischio di impresa? L'azienda può andare male. Se va male, lui perde i suoi soldi. Questo rischio andrebbe compensato. Però, lui non prende nessun compenso per questo. L'ultima cosa, sono quelli che si chiamano fitti figurativi. Cioè, se l'azienda utilizza dei beni, negli immobili, per esempio, che sono di proprietà dell'imprenditore, lui non riceve, potrebbe affittare ad altri, non li affitta, quindi rinuncia a questo compenso. Questo significa che se la somma di tutte questioni figurative non è inferiore al risultato del reddito operativo, per l'imprenditore non è conveniente svolgere la sua attività. Adesso possiamo provare a fare un piccolo esempio di come... Allora, adesso vediamo come possiamo fare per calcolare questo indice sulla base dei dati che noi abbiamo qua. Allora, abbiamo questo esercizio qua già svolto, dove ci sono lo stato patrimoniale rielaborato secondo i criteri finanziari e il conto equanautico riclassificato a valore aggiunto. Allora, noi dobbiamo calcolare questo indice che abbiamo detto che si chiama ROE. Allora, la formuletta del ROE, come abbiamo visto prima, il ROE, si ottiene dividendo il reddito netto RE fratto il capitale proprio moltiplicato 100. ok, allora vediamo sostituendo adesso con quelle formulette i dati che abbiamo su questi esercizi e qualche risultato ci viene. Allora, vediamo un po'. Il reddito netto lo troviamo qua sul conto economico utile netto gli esercizi 5.580.105 quindi 5.580.105 ho la presa 5.580.105 diviso il capitale proprio che invece lo troviamo nella situazione patrimoniale che è questo abbiamo detto che il capitale proprio è la somma del capitale sociale più le riserve ed è 50.400.50.466.105 moltiplicato 100 il risultato mi viene 11,56 ma trovo 11,0 dove sono qua per togliere le cose mi viene 11,06 ok è una percentuale questa vuol dire che il capitale proprio cioè i soldi che ha messo l'imprenditore capitale sociale più le riserve hanno restituito come utile l'11% allora è buono per poter esprimere il giudizio dovremmo conoscere intanto i costi figurativi che noi non sappiamo è una cosa molto complicata comunque da calcolare normalmente in Italia viene considerato un ROE positivo quanto è intorno all'8-9% quindi diciamo che questa è nella media è abbastanza buono la maggior parte delle aziende italiane hanno un ROE quelle che funzionano bene intorno al 10% quindi potremmo dire che è un risultato accettabile e normalmente viene considerato negativo se il risultato è inferiore al 6% bene bene